Buona giornata a tutti, l'Evangelo del Dio c'è con voi sempre. Oggi alla festa dell'amore, allargiamo il cuore alla speranza e alla compilenza. Preghiamo del Signore di questo suo cuore. L'amore che ci voglia sempre da più, stringisce il suo cuore e noi da parte nostra cerchiamo di corrispondere all'amore. Perché l'amore con l'amore si paga. Certo non possiamo ripagarla come dicevo, si ripaga in tutti gli istanti e in tutti i momenti della nostra vita. Ma cerchiamo di non riservarci niente per noi. Ci siamo offerti a Lui, ci siamo consegnati a Lui in questa sera. Sforziamoci che mantenete la promessa e il Signore sarà sempre più fedele di quel che noi possiamo immaginarci. vi auguro ogni bene a voi, alla famiglia e alle persone a voi che stanno a cuore.